Domani è stata organizzata una grande manifestazione in difesa della democrazia, in difesa del referendum e in difesa della sanità pubblica. Alle ore 14 in Piazza San Marco ci raduniamo e poi con un corteo andiamo fino sotto il Palazzo della Regione dove faremo un presidio ad oltranza fino a che il Presidente Gianni non riceverà il Comitato Promotore del referendum. Il Movimento 5 Stelle è solidale con il Comitato, condivide le preoccupazioni, condivide tutto il contenuto della manifestazione di domani. Invitiamo tutti gli attivisti e tutti i simpatizzanti del Movimento a partecipare in massa. E' un momento cruciale quello di domani, un momento fondamentale per la democrazia perché la legge che stanno approvando è una legge che limiterà tantissimo la possibilità di contare, centralizzerà il potere tutto nelle mani di Rossi che in questa fase della sua esistenza evidentemente ha un timore enorme di non fare il pareggio di bilancio e quindi di commissariamento della Regione Toscana. Noi di questo non abbiamo assolutamente paura, l'abbiamo dimostrato a Livorno e continueremo su questa strada. Martedì 15 dicembre ore 14, Piazza San Marco, Firenze. Alle ore 15 tutti in via Cavour numero 4 sotto i palazzi della Regione. Ci vediamo domani.